Mara Venier emozionata ad estate in diretta, è un traguardo importante. Estate in diretta, Mara Venier non trattiene l'emozione, sono molto legata. Nella puntata di oggi di estate in diretta è stato mandato un servizio con una breve intervista ai conduttori del premio Agnes che verrà trasmesso oggi, martedì 4 luglio, in seconda serata su Rai 1. Ai microfoni dell'inviata del talk estivo condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, Mara Venier non ha trattenuto l'emozione per l'importante evento. Sono molto legata a questo premio dal punto di vista professionale ha ammesso la conduttrice veneta che poi ha aggiunto. Sicuramente è una cosa bella, importante e qualificante e poi c'è il fattore sentimentale che forse è ancora più forte. L'appuntamento, dunque, è per stasera a partire dalle 23 e 40 circa sulla rete ammiraglia della TV di Stato. Alberto Matano irrompe nel talk di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, saluto i conduttori. Mara Veniera alla conduzione del premio Biagio Agnes sarà affiancata dall'amico Alberto Matano. Ed anche il conduttore della vita in diretta ha concesso una breve intervista all'inviata di estate in diretta parlando del prestigioso premio. Dopo essersi detto onorato per il traguardo e la possibilità data di condurre l'evento, il conduttore ha aggiunto. Quest'anno il premio è più internazionale che mai. Non poteva mancare poi una saluto a Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. I due, infatti, hanno preso il testimone proprio da Matano e condurranno estate in diretta per tutta la bella stagione, appunto, per poi lasciare spazio nuovamente alla vita in diretta a partire dall'11 settembre. I due conduttori, inoltre, dopo il comprensibile leggero imbarazzo della prima puntata adesso appaiono uniti ed affiatati tanto che non mancano di punzecchiarsi a vicenda. Mara Veniera e Alberto Matano conducono il premio Biagio Agnes, ospiti e anticipazioni. Questa sera la conduttrice di Domenica In, già al lavoro per la prossima edizione ed il conduttore della vita in diretta saranno al timone del premio Biagio Agnes. Evento che attribuisce i riconoscimenti a personalità che incarnano i principi più autentici della corretta informazione. La cerimonia di premiazione avverrà alla presenza della Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metzola che riceverà il premio per le istituzioni europee. Invece, tra gli ospiti saranno presenti Albano, Fausto Leali, Arisa mentre il premio della televisione andrà a Fiorello per il suo Viva Rai 2, il morning show matutino rivelazione di questa stagione televisiva.